povero il mio gioiellino è tutto a pezzi ma oggi con degli editanti particolari la rimetterò in funzione buongiorno a tutti mi presento sono un meccanico molto contento qui a gara svegno mi annoio mai tra poco il perché tu scoprirai non parte ok Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sembra il rombo di un motore. Vanno a tempo tutti i pistoni, queste sono le percussioni. Riproviamo. Evviva, è partita. Se la caratteria ve lo chiuderai, mi suona un braviglioso ascolto. Quando la macchina mi ha fatto brillare, la famiglia di Etoni sarà pronta a brillare. Sta diventando bella luce dalla tua tromba. Sì, sì, anche la tua. Perfetto, allora siamo pronti per suonare. Perfetto, allora siamo pronti per suonare. Wow, che lucentezza. Ci si potrebbe quasi spezzare. Sentiamo che per suonare i nostri fatti. Anche noi vi ho fatto un bel lavoro. Sono d'accordo. Ma a chi vi ci facciamo? Prima inizio anche con il turbone, poi vado io con il riforme. Che luminosità! Ottimo lavoro, ragazzi. Ci manca ancora qualche piccolo lavoretto prima di mettere questo giugno in strada. Appuntamento al prossimo episodio. Per un lavoro davvero professionista, manca ancora altro da fare nella lista. Tutti gli interni io lo dovrei controllare. E gli eleganti levi far suonare. Dunque, dunque. Vediamo un po' le varie funzioni. Iniziamo dal flauto traverso. Lo faremo suonare quando azioniamo le frecce. Ottimo, ottimo. Un'altra cosa che non può mancare è il clacson. Vediamo un po'. Lo affiderei al lower. Fammi sentire. La normativa. Meglio rispettarla sempre. Un segnale ci sta per vedere se le cinture sono allacciate. Affidiamole ai clarinetti. Meglio essere sicuri e verificare che si sentano bene i sensori della retromarcia. Serve qualcosa che si senta bene. Lasciami pensare. Idea. I sassofoni. E per finire, una cosa in più, ma sempre utile. Un segnale di apertura delle portiere. Affidiamolo al fagotto. Mamma mia che soddisfazione. Finalmente è pronta per ripartire. Ma ora sono un po' stanco. Aspettate la prossima puntata e via che si va. Ora siamo pronti per il viaggio. Via la radio con la musica da raccontare. Noi sogniamo continuamente e ci divertiamo allegramente. È giunto il momento. È ora di partire. Iscriviti al nostro canale. Iscriviti al nostro canale. dai mettiamo un po' di musica un po' di musica 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 di musica